Sono Giulia Montanelli, mi occupo appunto della pianificazione delle fasi di verifica e avvio in esercizio sia degli enti creditori che dei prestatori di servizio di pagamento e che è quella attività che naturalmente segue immediatamente l'adesione da parte di enti creditori e prestatori di servizio di pagamento e che ha inizio con la compilazione da parte di enti creditori e prestatori di servizio del cosiddetto piano di attivazione. Il piano di attivazione è quel documento nel quale si pianificano le attività propedeutiche appunto all'avviene esercizio. La sintesi del processo di attivazione è rappresentato in questa slide. A partire da sinistra appunto l'ente creditore o il prestatore di servizio deve porre in essere le attività relative alla realizzazione applicativa. La realizzazione applicativa è sostanzialmente costituita da tre principali componenti, sono le funzionalità di front office realizzate dall'ente creditore che sono relative alle funzionalità che l'ente ha reso disponibili nei confronti del cittadino, dell'utilizzatore finale sul proprio portale per l'effettuazione dei pagamenti. Poi ci sono le funzionalità di back office che sono quelle funzionalità ad uso dell'ente creditore per la gestione del ciclo di vita del pagamento e poi naturalmente ci sono le funzionalità che servono per colloquiare col nodo, che sono quindi tutte quelle primitive che consentono sostanzialmente come aveva iniziato ad accennare il collega Alberto Carletti, che consentono appunto il colloquio tra ente creditore e prestatore di servizio e fondamentalmente lo scambio della richiesta di pagamento telematico e dall'ente creditore nei confronti del prestatore di servizio e il ritorno indietro della ricevuta telematica. Quindi una volta che l'ente ha aderito e quindi ha sottoscritto l'adesione, la sua adesione si perfeziona appunto con la compilazione del piano di attivazione. Il piano di attivazione è un documento che l'ente compila sostanzialmente insieme ad Agid, perché è la pianificazione di tutte le attività che devono essere svolte per l'avvio in esercizio. Quali sono queste attività? Lo vediamo nella slide successiva sostanzialmente. Allora facciamo prima il caso, come è stato accennato dall'avvocato Giulivi, un ente creditore può aderire al nodo dei pagamenti o in modalità diretta e quindi è l'ente che si connette direttamente all'infrastruttura del nodo dei pagamenti o in modalità intermediata. L'esempio tipico è quello di un intermediario tecnologico costituito per esempio da una regione nei confronti dei propri enti del territorio. Vediamo il caso più semplice che è quello del piano di attivazione di un ente che si connette direttamente al nodo dei pagamenti. Si mette in atto quindi la pianificazione delle attività avvolte all'attivazione. Ci sono delle attività che sono relative alla connessione all'infrastruttura, quindi al nodo dei pagamenti e che sono l'attivazione della connettività fisica, ovvero il colloquio tra l'ente creditore e il nodo dei pagamenti, il colloquio, la connettività avviene secondo il paradigma della cooperazione applicativa, quindi è un colloquio tra le porte di dominio dell'ente creditore e del nodo dei pagamenti, dopodiché devono essere messe in atto delle attività relative alla configurazione dell'ente e al caricamento delle sue informazioni di base sul nodo dei pagamenti, nel senso che l'ente deve essere riconosciuto sull'infrastruttura nodo. Queste attività di cui stiamo parlando sostanzialmente si ripetono in maniera assolutamente speculare in due ambienti, nell'ambiente di collaudo e poi nell'ambiente di esercizio, quindi c'è una prima fase di attivazione del lente sull'ambiente di collaudo, un'esecuzione di tutti i test in ambiente di collaudo e poi diciamo le stesse attività vengono ripetute in ambiente di preesercizio, ovvero di esercizio controllato. Ma vediamola in dettaglio, quindi si inizia con l'attivazione della connettività fisica dell'ente, si prosegue con la configurazione sul nodo e con il caricamento dei dati dell'aderente e poi diciamo questo si passa, Carletti avrebbe parlato dei tre modelli di pagamento che sono modello di pagamento attivato presso l'ente creditore, con esecuzione immediata, con esecuzione differita, modello 2 e pagamento attivato presso il prestatore di servizio di pagamento, quindi immaginate che per ciascuno dei modelli di pagamento scelti dall'ente creditore si effettua l'insieme completo dei test. A che cosa sono volte le verifiche che si effettuano nei confronti dell'ente creditore? Sostanzialmente a verificare che l'operatività dei modelli di pagamento corrisponde effettivamente alle specifiche attuative vigenti, sapete Carletti aveva citato appunto il fatto che il sistema segue una serie di regole che Agida ha stabilito. Successivamente occorre verificare che il software sviluppato dal singolo ente creditore non interferisca naturalmente con quello degli altri aderenti al nodo, che la qualità dei servizi di front office che sono resti disponibili dall'ente nei confronti dell'utilizzatore finale sia conforme a quella indicata dalle guide tecniche e infine che la qualità dei servizi di back office. Un attimo intervengo per dare modo un attimo alla dottoressa Montanelli di anche bere un sorso d'acqua. Nel frattempo chiedo a tutti gli utenti, siete in tanti collegati in questo momento, ci sono 480 persone collegate, l'argomento è molto denso, desta molto interesse, le domande che stanno arrivando sono tantissime. Gli esperti daranno risposta a tutti i quesiti, vi preghiamo solo di non ripetere le domande perché in questo modo, come dire, si fa più complessa la gestione e l'assegnazione e ricordiamo anche che a fine del webinar ci riserviremo un ulteriore quarto d'ora di tempo per dar modo a tutti gli esperti di rispondere alle vostre domande. Intanto vedo che la dottoressa Montanelli è rientrata, quindi ricedo sicuramente la parola. Stavamo dicendo quindi che per ciascuno dei modelli di pagamento implementati si effettuano una serie di test. Naturalmente il presupposto è che l'ente creditore o il prestatore di servizio di pagamento abbia completato la realizzazione applicativa di cui parlavamo poc'anzi, ovvero le funzionalità di front office, le funzionalità di back office e le funzionalità di interazione con il nodo dei pagamenti. Quindi esaminiamo per ogni modello, prendiamo ad esempio il modello 1. Terminata la realizzazione applicativa da parte dell'ente creditore ed effettuata le attività iniziali di connessione al nodo, quindi di attivazione della connettività fisica e di configurazione dei dati dell'ente creditore sull'infrastruttura nodo dei pagamenti, si passa alla prima fase di test vero e proprio, ovvero di test con gli emulatori. Il nodo dei pagamenti mette a disposizione una serie di emulatori che consentono per quanto riguarda le funzionalità di interazione con il nodo dei pagamenti, che sono realizzate attraverso un insieme di primitive e di web services di colloquio, permette di simulare per l'appunto il colloquio tra un ente creditore e la sua controparte che è il prestatore di servizi di pagamento. Questa fase termina con un esito naturalmente che può essere negativo o positivo e che è attestato da un verbale di verifica. Il verbale di verifica è un documento che l'ente creditore o il prestatore di servizio di pagamento è tenuto a sottoscrivere per ciascuna delle fasi di test. Quindi al termine dei test con gli emulatori, l'ente creditore sottoscriverà il documento di verifica e solo al termine dell'esito positivo di tale fase verrà indirizzato alla fase di test successiva, che è la fase per l'appunto di test con la controparte, siamo ancora in ambiente di collaudo, nel quale all'ente creditore verrà fornita una controparte, un PSP che metterà a disposizione il proprio ambiente di test e che permetterà appunto di effettuare tutte le prove relative al colloquio tra le due controparti. Al termine di questa fase ancora una volta l'ente creditore del prestatore di servizio di pagamento sottoscriverà il verbale di verifica. Il verbale di verifica è un documento piuttosto ampio che abbiamo predisposto e che sta pure sul sito di Agid, nel quale sono elencati tutte le prove che devono essere fatte, sia per quanto riguarda le funzioni di front office che è quella di back office, ma soprattutto per quanto riguarda le funzionalità, le funzioni di integrazione con il mondo dei pagamenti. Quindi sono elencati tutti i test case che devono essere svolti prevedendo sia casi positivi che casi negativi. Si chiede ovviamente di rispondere a tutti i test case previsti e di allegare anche delle evidenze a riprova diciamo dei test effettuati. Si prosegue una volta terminata la fase di test con controparte, stiamo parlando del, abbiamo fatto il caso del modello 1 e una volta compilato il verbale naturalmente Agid, ad ogni step verifica il verbale, interagisce con l'ente creditore o col prestatore di servizio di pagamento, segnalando eventuali incongruenze, inesattezze, si cicla questa attività fintanto che il verbale non è soddisfacente e al termine di tale fase si autorizza l'ente creditore a essere attivato in ambiente di preesercizio. L'ambiente di preesercizio è a tutti gli effetti l'ambiente di esercizio ma è un ambiente esposto ma controllato, nel senso ancora non si è diffuso agli utilizzatori finali ed è un ambiente però nel quale vengono effettuati dei pagamenti e quindi si può attestare in questa fase il ciclo completo di pagamento, quindi la richiesta di pagamento, la ricevuta di pagamento ma anche tutte le fasi relative al flusso di rendicontazione e alla riconciliazione del pagamento. vi faccio ecco, oltre al piano di attivazione stiamo sempre parlando di un ente creditore che aderisce in modalità diretta, il secondo foglio di questo piano di attivazione contiene il piano di attivazione relativo ai servizi che l'ente creditore intende rendere disponibili per il pagamento e questo è un altro set di informazioni molto importanti perché naturalmente non solo permette di far conoscere quali sono i servizi che si stanno via via implementando ma che servono anche a noi e alla nostra infrastruttura tecnica per dimensionare l'infrastruttura nodo dei pagamenti. Ricordate prima che il mio collega Frulletti ha parlato di un numero molto alto, per esempio di pagamenti da parte di Inail, così come saranno notevolissimi i volumi di pagamento di IMSS, di Equitalia e di altri enti molto grossi, è chiaro che per noi è molto importante avere un dimensionamento delle operazioni relative ai servizi che vengono messi in atto perché appunto servono per dimensionare l'infrastruttura e quindi sarà importante sapere soprattutto quante sono le operazioni di pagamento previste ma anche quali sono eventualmente i picchi mensili, stagionali, giornalieri perché sapete bene che ci sono alcuni servizi che sono pagati in certi giorni del mese, in certi mesi e quindi è importante avere contezza di questi dati. Quindi noi insistiamo molto nel momento in cui arriva il piano di attivazione che siano valorizzate anche le informazioni relative ai servizi. Dicevo, questo documento che si chiama piano di attivazione viene compilato insieme e dopodiché viene validato da noi e si passa appunto alla fase di realizzazione delle attività che abbiamo descritto. Questo era l'esempio di un piano di attivazione per un ente che aderisce in modalità diretta. Scusate, allora non ho una slide che lo rappresenta ma ve lo racconto perché nel caso in cui l'ente creditore sia intermediato ad esempio dalla propria regione, il piano di attivazione verrà inviato e concordato con Agit da parte dell'intermediario tecnologico nel quale sostanzialmente si chiederà all'intermediario tecnologico di effettuare tutta la fase di test per il primo degli enti che l'intermediario intende intermediare. Naturalmente ci sarà stata una fase in cui l'intermediario ha aderito per i propri servizi e sarà stato verificato per se stesso, dopodiché si effettua la verifica per il primo dei propri enti intermediati e dal secondo ente in poi non c'è più bisogno di effettuare nuovamente i test perché ormai la situazione sarà stata consolidata e sarà stata verificata. Molto velocemente perché non voglio credo di essere forse fuori tempo massimo, me lo dite voi? Sì, guardi qualche minuto, se riesci a stringere così possiamo provare a ripassare la parola. Allora dico semplicemente che diciamo nel momento in cui vi viene inviato il piano di attivazione, vi viene inviato anche il verbale di verifica che è un documento che serve appunto per diciamo comprovare da parte del lento del prestatore di servizio l'effettuazione dei test, è un documento al quale teniamo molto e quindi nel momento in cui lo ricevete o lo scaricate dal sito vi chiediamo di chiarire immediatamente con noi quali sono gli aspetti che non vi sono chiari per poi diciamo poter velocizzare le attività di verifica. Io direi per il momento mi fermo qua, spero di poter passare la parola al mio collega Carletti.